Il Pio Ma si tu hai il sangue blu? Questo che io vuoi sapere. Una persona che va a te voler. Ma io non voglio per nessuno. Noi, noi, noi. Noi, come ti vede, vede che ci siano risposta, e si vede a chi lo ha morto. Ma non è una persona, ma non è un'occhiazza... ma non è un'occhiazza. Non è una persona, ma non è una persona. Grazie a tutti.